Emiliano, allora, è arrivato il momento del nostro talent. Siamo al momento del talent, sì. E allora lanciamo subito... La sigla. Sigla. Allora, vedi, le nostre giurate ballano la sigla, eh? Come ballavano prima, tipo concerto con... Sì, sì, adesso ballano la sigla. Mancava l'accendino. Proprio. Allora, le andiamo a presentare le nostre giurate friccicarelle, friccicarelle? Roberta Murzilli, organizzatrice di eventi e presentatrice. Giovanna Durso, scrittrice, produttrice. La nostra bravissima e bellissima madrina, Marina Peroni. Poi abbiamo Alex Parravano, vocal coach, bravissimo cantautore, e Luisa Chillemi della Luise Recording Studio. Allora...